Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ma comunque è caldissimo. Non posso accendere la luce perché sennò penso che frigo. Infatti guardate il sole. Sulla persiana ancora un po' penso che prendo fuoco. C'è il semplice rumore del mio ventilatore perché non ce l'ho proprio qua. che gira sopra, vedete, eccolo. Allora, io se non inizio un video dove mi incastro le collane non sono felice. Ho appena pulito tutta la stanza, l'ho fatto il pavimento, ho fatto la pulizia di Pasqua, ancora non mi soddisfa perché purtroppo io ho la fobia delle zanzare, le odio. Non è che la fobia, le odio proprio le zanzare a morte. Niente, questa collana non si vuole districare, vabbè. Si vogliono bene le collane, vabbè. Ok, perché questa cosa qua? Perfetto, ci abbiamo fatto. Io proprio ho un odio perenne per le zanzare, infatti adesso devo andarmi oggi a comprare anche le cose. Mi vedrete più lontana appunto perché mi metto, sono seduta sulla sedia. Comunque ho pulito tutta la stanza, cioè finalmente ce l'ho fatta, purtro della pelle, perché sto continuando ad andare in piscina e al lago, eccetera, eccetera. E, cioè, adesso magari mi vedete più scura, non so se sto bianca come un cadavere. Sto prendendo colore adesso. A parte che mi sto bruciando, ma mi prendo la pelle, dobbiamo vedere cosa vuole. Allora, siamo qui riuniti per parlare, sinceramente non so che cosa, devo fare di video. Allora, diciamo che questo video, ecco, poi gli darò un nome, non so quale. Devo fare una serie di video. Allora, purtroppo sono stata assente, pare, è stata un po' assente, ecco, vediamola così. In effetti c'è una faccia rossa. Sono un po' assente su YouTube perché appunto ho avuto una serie di colloqui di lavoro, poi ho dovuto organizzarmi comunque appunto con un'emica che era da una vita che non la vedevo. Io odio anche i bracciali, certamente, perché guardate, c'è un segno proprio del bracciale. Questi bracciali li sto odiando perché sono pesanti. Comunque, ho avuto una serie di impegni, quindi sono scomparsa e adesso, per fortuna, sto riuscendo, grazie cani, sto riuscendo a fare i video di ASMR, è un po' più complicato perché, lo spiego in questo video qua, i cani stanno rifacendo la mia villa di fronte, cioè, non è proprio di fronte, è parallela, proprio vicina, e la villa di fronte, hanno deciso di rifarla, di fare delle modifiche in estate, chiuso perché mi odiano. E quindi è un po' un problema. Cercherò di fare qualche video carino, cercherò di fare quello che riesco, non so quala cosa. Infatti, intanto faccio uscire un video di aggiornamento per che nessuno... guarda, ma va bene, è lo stesso. La cosa che purtroppo mi rammarica è che ho preso tantissimi iscritti, tipo sia su Red Prince sia su Asara ASMR, addirittura sono scelta sotto i 250, quindi lo speciale, manco devo farlo più. Cioè, magari lo farò più avanti. Io mi sono rotta il cazzo, sinceramente, ho detto proprio sindacalmente perché uno non può farsi tecnicamente una pausa per farsi i cazzi suoi, che la gente scompare, la gente inizia a dirti, ah ma non passi più, ah ma sei scomparsa, eh ma se non passi a me non passo da te, o comunque magari gente che può si disiscrive, scompare da YouTube. Cioè, io sinceramente se seguo delle persone e non fanno video per un lasso di tempo, non è che mi disiscrivo. Poi non so come ragionate voi, ma va bene, è lo stesso. Se riuscirò a tornare a fare le live, il problema è fatto del caldo, perché adesso riesco a farlo, perché mattina fa abbastanza fresco, infatti la mia mente andasse svolazza, poi appena lavato, quindi più o meno la stanza è esibibile. Normalmente nella mia stanza non riesco a fare video, si muore di caldo e a volte è proprio infattibile fare video. Cioè, veramente, io, tutti lo chiamerò, io odio il caldo. Hashtag MinaGioia. Non scherzo, vabbè. Ah, diciamo che vi farò vedere poi, c'è anche la lavatrice che sta partendo, non posso chiudere la porta perché se no muoio di caldo. Diciamo che appunto usciranno di, si riescono anche di video log dove sono andata appunto in piscina, sono andata al Blue Paradise, si chiama. Farò anche altri video particolari, poi vedrete, non vi faccio spoiler. Alcuni magari anche su Netflix, perché sto seguendo delle serie tv, abbastanza carine. E quindi cerco di portare un po' di cose. Unboxing non più di tanto, magari se riuscirò vi farò quello del mio costume da bagno, se volete. L'unica cosa che sono riuscita a comprare è poi la borsa a frigo, per rifare l'unboxing di quello. Cazzo di amatrice. E poi l'unica cosa che ho fatto, sono questi vestiti appunto che vedete appesi sulla mia ciclette, che sono quelli che uso normalmente. Guardate proprio, è la lavatrice. Comunque, ci sono queste cose che ho comprato, tra l'altro gli occhiali li ho spaccati da quelli dell'Avance, mi hanno messo questi della Ray-Ban, che fanno schifo. Ve lo dico perché hanno proprio le lenti, non potete già vederli da qua, hanno delle lenti di merda che sono chiarissime, io invece sono proprio orba, quindi ho una sensibilità al sole pazzesca, quindi devo cambiarmeli quando avrò i soldi. Lavoro per ora ancora nulla, faccio una marea di colloqui perché in estate si sblocca già qualcosa, è già buono, è già buono. Anche se parecchio butto, parecchie fregature, poi ve ne parlerò magari in un video ovviamente o mettendo il nome delle aziende perché sennò non ci manca solo l'acquarela. Avrò parecchi video da fare, diciamo, di lamentele, dove alcuni posso fare anche i nomi. Iniziano, sentite il rumore celestiale, iniziano di nuovo a segare con la motosega elettrica. Che bello. Io come faccio a fare gli ASMR non lo so. Infatti io adesso vedrò, ho pensato anche di chiudermi nel bagno per fare gli ASMR ma purtroppo il bagno è di tutti, non è solo mio. E al mattino se sono da sole perché mia mamma e il suo compagno lavorano e quindi tocca a me non mandare la casa in rovina con le blatte e quindi c'è da pulire, sistemare o da fare determinate cose. Quindi io vi prego cercate di restare iscritti al mio canale, di condividere i video vecchi e quelli nuovi tipo come questo qua che non so quando uscirà. Penso addirittura in questa settimana che siamo adesso uscirà questo video del 9 se non sbaglio perché non ho altri video da fare uscire e poi però ho altri video ovviamente. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando come mi dite il video e mi raccomando passate sotto c'è nell'info box, cioè guardatelo, c'è il link del mio secondo canale, iscrivetevi prego a meno che torniamo a 250 iscritti perché se no non posso fare lo speciale. Che io ci tenevo tanto sarà forse l'unico video che farò perché devo farlo per forza questa settimana perché mi dispiace lasciare il canale senza questo video, però purtroppo non sono proprio riuscita, fare l'smr è molto più complicato che fare video così, anche se questi video così manco vengono cagati, però io spero sempre di sì. Vi ringrazio e vi auguro un buon estate, mettete hashtag se siete con me, odio il caldo, hashtag maina gioia, in estate almeno, della vita spero di sì. Vi saluto e renda ossa, perdendo dito. Ciao! Ciao!